Dai, perché? Allora, le navi devono essere grandi navi da turismo portate fuori alla laguna perché oltre a creare inquinamento non creano assolutamente posti di lavoro a Venezia anzi li tolgono perché occupano lo spazio per navi di cruceristica minore che danno realmente lavoro ai veneziani e alle vite locale mentre gli altri hanno già tutto a bordo e non servono a niente per l'economia cittadina. Grazie